Musica Si correrà domenica 26 febbraio con partenza alle 9 da Viale Kennedy la Napoli City Half Marathon, evento organizzato dalla Napoli Running in sinergia con il Comune che richiamerà in città oltre 6.000 iscritti. Atleti provenienti da tutta Europa, dall'Italia e dall'Africa si sfideranno a grande velocità su un percorso di oltre 21 chilometri per le strade di Napoli. L'obiettivo è affermare la città partenopea tra i capitali mondiali del podismo. Abbiamo tre obiettivi, quello di fare la mezza maratona più veloce mai corse in Italia nella storia, sono tutti tentativi, quello di attaccare il record italiano femminile questa volta e abbiamo atleti, il campione di Germania, Bulgaria, Polonia, Austria che hanno scelto Napoli grazie alla qualità dell'organizzazione, grazie al percorso per fare il loro record nazionale. L'evento si inserisce nella programmazione che vede Napoli candidata a Città Europea dello Sport 2026 ed al fine di coinvolgere la cittadinanza sarà accompagnato dalla staffetta per due e dalla Family Running Friends, due gare aperte a tutti per trascorrere del tempo in famiglia divertendosi attraverso lo sport. L'anno scorso abbiamo raggiunto il record italiano qui a Napoli con gli Eman Krippa e quindi quest'anno puntiamo ancora qui in alto ma mi piace sottolineare che questo sarà un evento sicuramente internazionale, ci sono circa 6.000 i podisti che vengono qui e quindi questo fa un gran lustro, un gran piacere alla città di Napoli, sempre accogliente ed inclusiva e quindi un grandissimo evento nella scia, speriamo, della giudicazione della candidatura di Napoli a Capitale Europea dello Sport 2026, ma c'è anche lo sport per tutti, lo sport per le famiglie perché non dimentichiamo che ci sono tante iniziative, c'è la Family Run che è un'iniziativa bellissima che serve appunto per coinvolgere nello sport semplice, non agonistico, tutte quante le famiglie. Un'opportunità per correre tutti insieme senza nessuna differenza, io cercherò di esserci con mia figlia Alba perché è un momento molto importante, non solo proprio dal punto di vista sportivo ma anche comunicativo, dove dobbiamo lanciare il messaggio che questa amministrazione è aperta a qualunque forma di famiglia e ogni famiglia ha la sua storia ed è importante così com'è.